Ciao ragazzi, bentornati sul canale, andiamo avanti con i nostri interattivi, do cache uno un po' diverso, non voglio fare ombra con le mani sulle carte. Approfitto anche per ribadire a tutte le persone che ho già sentito per messaggio per email che le revisioni verranno effettuate quanto prima, i consulti privati e anche le risposte a eventuali email e messaggi a cui non è stato dato risposta quanto prima, perché sto cercando di riorganizzare il mio lavoro sia da casa che poi tra l'altro sto cercando di entrare anch'io in questo clima di forzata prigionia e la cosa molto interessante di cui mi sono resa conto, così voglio condividerlo con voi, è che per quanto la tecnologia ci possa tenere vicini, io rinuncerei mille volte alla tecnologia in cambio del contatto umano vero e proprio, perché è vero ci dà, come dire, la tecnologia ci permette di fare intrattenimento anche tra di noi, però è dura e dura stare chiusi in una stanza o in una casa, ho anche la fortuna di stare in una casa abbastanza larga, poi tra l'altro da sola adesso che non sono riuscita a tornare giù dai miei, e quindi ho anche uno spazio accettabile con un balconcino, però questo era tanto per dire quanto è importante il contatto umano, quanto sono importanti i sentimenti e tutte quelle cose che poi la fretta della quotidianità non ci fa valutare per quello che effettivamente sono. Bene, perdonatemi se mi sono permessa questa piccola parentesi iniziale, andiamo a chiedere alle carte che tipo di partner sta per entrare nella nostra vita, cioè che tipo di partner, che uomo, che donna, contestualizzate voi, ci mancherebbe, non lo sappiamo. Facciamo due varianti, due varianti perché nel mentre aspettavo che il tempo trascorresse, ho cominciato a mescolare i mazzetti, ho deciso di usarne 4, 5, 6, non lo so neanche io, comunque ne ho usati molti. E vediamo un pochino, allora analizziamo prima la situazione un pochino com'è, il tipo di partner che entra nella nostra vita, e più o meno come dovrebbe andare, come fate a riconoscerlo tra l'altro. Quindi prendetevi con calma tutto il tempo necessario, scegliete la variante, siamo tornati alle gommine, perché con queste carte molto colorate i cubetti non erano molto visibili. Allora, gommina rosa, gommina verde. Direi di cominciare, voi potete comunque interrompere il video e aspettare poi, una volta scelto, riprendere. Allora, gommina rosa la mettiamo qui, le carte le mettiamo qui, vediamo un po' com'è la situazione. Bellissimo, bellissimo questo asso di coppe. Queste carte sono meravigliose, i tarocchi del fuoco, anzi del fuego. Allora, lo sapete no? La via Lattea, tutta la mitologia ci racconta del seno di questo piotto di latte che poi ha creato la galassia, e l'abbondanza, il nutrimento, il primo nutrimento, il nutrimento essenziale, perché se noi non avessimo questo nutrimento, quello forse più simile e utile alle necessità della nostra anima, ecco, non potremmo, non potremmo iniziare a resistere, qui si stanno creando le radici. È un asso sì, quindi ci parla anche di una individualità molto forte e di una grande capacità di dare amore, ma anche di accoglierne. Quindi abbiamo una persona, la persona che sta seguendo questa variante e che ha scelto questa variante, che ha una grande individualità e un carattere molto forte. È portata sia a dare, a dare in abbondanza, e quello che dà è essenziale, fondamentale. Quindi probabilmente siete la persona che in un rapporto fa il primo passo. Adesso forse vi siete fermati, oppure in realtà non vi siete fermati, vi è incuriosito il titolo, e volete vedere quale partner sta per entrare nella vostra vita, quando invece magari sarete voi ad entrare nella vita di un'altra persona. Perché noi poniamo sì le domande e le carte, però poi le carte decidono loro come rispondere. Qui c'è una leggerezza che forse viene dal passato, ma è anche una leggedria, cioè una leggerezza con la quale forse alcuni rapporti sono stati vissuti o subiti, o magari è stata una scelta reciproca. Ma adesso vogliamo mettere radici. Cioè, se ci stiamo interrogando su quale partner entrerà nella nostra vita, quale compagno entrerà nella nostra vita adesso, ecco le esigenze della persona che ha scelto la variante rosa, sono esigenze di concretezza, di sostanza, di abbondanza, dove non si vuole prendere. Se anche risposte a dare, ma se anche risposte a raccogliere, e qualunque cosa verrà fuori, sarà sempre un qualcosa che darà motivo a queste radici di radicarsi per l'appunto nel terreno. Quindi le fondamenta di questo nuovo rapporto saranno delle fondamenta forti, e come in alto è così in basso precetto ermetico. Ed è anche un amore scritto nelle stelle, quindi probabilmente un qualcosa di predestinato. Finalmente c'è una delle stelle che brilla di più. Forse è la destinazione a voi che voi dovete seguire. Alzare gli occhi al cielo, rialzare la testa, riprendervi se c'è stata una delusione passata. Comunque qualcosa sta per arrivare. Molto probabilmente deve esserci stata una sofferenza, l'amore. Allora, questa carta mi richiama uno dei due fiori, se riusciamo, presenti qui. C'è una rosa, è un altro fiore che mi ha fatto pensare ad un papavero. Ma comunque un fiore rosso, un fiore di passione, una passione che brucia, che ha le sue spine, e ha il suo valore. Siamo rimasti scottati. Siamo rimasti scottati da questa passione. Il 6 della carta di diamanti, nell'arcano dei tarocchi maggiori, l'arcano numero 6. Abbiamo visto con i nostri occhi un qualcosa che è rimasto profondamente radicato dentro la nostra memoria. Cosa vuol dire? Perché forse non sono stata brava nello spiegarlo. È un dolore di cui noi abbiamo capito le ragioni. O perché abbiamo visto cosa lo ha provocato, quindi una scena, o perché l'abbiamo scoperto, comunque visto inteso in senso metaforico, quindi sappiamo il perché. Cioè non è un qualcosa di cui abbiamo sentore, una situazione che è finita, se n'è andato non mi ha dato più spiegazioni, io soffro, soffro, soffro. No, qui ci siamo proprio scottati, siamo andati a metterci proprio la mano, ma non la mano, come Santo Maso, ci abbiamo messo il dito nella piaga. Dice, mi fa male, mi voglio fare male un po' di più, voglio controllare meglio, voglio vedere. Quindi la persona che ha scelto questa variante sicuramente ha, diciamo, attraversato dopo questo episodio un periodo in cui è stato necessario recuperare le forze. Recuperare le forze perché diciamo che moralmente non si è abbattuta tanto questa persona, perché la sua gioia, il suo amore per la vita, la sua volontà di continuare, di ricominciare, quella c'è sempre stata, è sempre rimasta, però ci sono state le ferite, quelle andavano curate, quindi una ferita richiede un tot di tempo, non rimargina solo perché noi vogliamo che rimargini. E abbiamo un nuovo inizio, abbiamo questo meraviglioso bagatto che sta lavorando nuovamente con il fuoco, un fuoco controllato, e poi guardate che cosa meravigliosa, a parte i frutti che arrivano in abbondanza, ma, se riesco a prendere queste carte, non è detto perché la superficie è liscia, queste carte sono lisce ancora di più, vediamo se ci riusciamo, vabbè, facciamo così che è più facile. Abbiamo, vedete, questa mano rossa, questa mano, la mano offesa, tutte e due le mani rosse, la coppa contenente il liquido, stesso liquido bianco, tra l'altro, le stelle, il fuoco contenuto, sono bellissime queste carte. Qui abbiamo una persona che ha effettivamente imparato la lezione da quello che gli è successo, o le è successo. Noi vogliamo ricominciare, vogliamo raccogliere frutti, ma questa volta non siamo talmente ostinati da volerci mettere in situazioni pericolose, solo se ne varrà la pena, solo se ci saranno le premesse, solo se ci saranno le basi. E sono belle anche queste colombe, o piccioni, comunque due animaletti che fanno pensare molto al corteggiamento, stanno tubando come due colombe, sono due piccioncini. Quindi il desiderio di ricominciare una storia, è una storia ben radicata, torna al tronco, e partiamo dalle radici, perché qui manca il resto del tronco, dell'albero. Partiamo da delle radici solide, abbiamo tutta la buona volontà, tutte le intenzioni, e abbiamo ancora forza ritrovata. Quindi questa è la situazione generale. Ora andiamo a vedere che tipo di partner stiamo per attirare. Bene, abbiamo un bello urano. Allora, qui abbiamo una persona molto, direi adulta, dove per adulto non è per forza un'età, è uno stato d'animo, un atteggiamento. Persona chiusa, difficile da penetrare, magnetica, tanto, potrebbe apparire molto scostante, sebbene non c'entri nulla, a me fa pensare terribilmente a un capricorno. se non è appunto adulto abbiamo detto è un atteggiamento e è una di quelle persone che apparentemente è l'opposto di quello che voi siete. Voi questo fuoco lo mostrate addosso, cioè proprio emana da voi questa grande carica. Qui è come se si emanasse un senso di freddo, di gelo, un qualcosa che rallenta, che cristallizza, che ferma, che blocca, però sotto questa apparenza ed è proprio questa sensazione che mi ha richiamato tanto il segno del capricorno, c'è una persona molto, molto, molto passionale. Direi che qui non è tanto un uomo che ha chiuso la storia, qui abbiamo un uomo che probabilmente o una donna ha sacrificato la possibilità di storia nel passato per raggiungere prima una concretezza e una posizione sul posto di lavoro e non è uno di quelli che va a diciamo farsi pubblicità, no, perché a lui non interessa mostrare agli altri quello che ha fatto e quello che ha ottenuto, a lui interessa o a lei di saperlo per sé cosa ha raggiunto, anche perché non è di quelle persone che chiedono aiuto che gli altri, è un leader, un solitario, non un gregario, assolutamente, se deve lavorare in team lavora, se deve agire in team lo fa, ma preferisce fare le cose da solo, un uomo di poche parole, una donna di poche parole, anche i fatti sono pochi, però quei fatti sono mirati e concreti, cioè se riuscite a conquistare una persona del genere, una persona del genere vi rivolge le sue attenzioni sappiate che se non è per sempre quasi, cioè quel per sempre va a finire per sempre a sua volta se lo deludete, e cerca, ha un alto ideale di perfezione che ricerca nelle persone che avvicina o meglio, lui non avvicina dalle quali si lascia avvicinare ed è una persona in senso positivo o duplice, allora, qui abbiamo un capricorno e un gemelli per quanto mi riguarda, la notte e il giorno ma in realtà il freddo e il caldo è una persona molto molto sicura di sé ma non è narcisa, quella sicurezza di sé è veramente una luce che risplende dentro di sé che lui agli altri nasconde, è come se la sua anima fosse si formasse di due aspetti due polarità completamente opposte proprio come la pila ed è proprio la capacità di saper far dialogare queste due polarità che rende questa persona ancora più magnetica cioè a un occhio distratto si potrebbe dire ah quanto è antipatico quanto se la tira questo è un bipolare perfetto è uno strano si crede chissà che cioè tutta questa bellezza tutto nelle sue mani regge il mondo se non c'è lui non c'è la luce nelle nostre giornate se non c'è lui non ci possiamo divertire anche nei gruppi di amicizia intendo quando arriva lui tutti lo notano e tutti volgono lo sguardo verso di lui come gira soli verso il sole se non c'è lui la festa non è come quando invece partecipa prende la parola quando fa il simpatico sì però poi in realtà finge cioè c'è questo alone strano intorno a questa persona io credo che potrebbe essere addirittura o un vostro capo al lavoro o comunque una persona che avete conosciuto in un contesto lavorativo o il contesto lavorativo magari era il suo e voi vi siete trovati lì colpo di fulmine a voi questo questa vi è piaciuta subito cioè al di là delle chiacchiere che si possono fare questa persona vi è piaciuta e questa persona vi ha notato ma questa persona sicuramente non ha dichiarato il suo interesse si è tenuta sulle sue vediamo un pochino cosa dobbiamo fare e come andrà allora qui viene ribadito il concetto di rinascere dopo un periodo di difficoltà come abbiamo visto nelle prime carte qui c'è un fiore che sta tirando fuori tutta la sua energia sta germogliando su una pietra su un terreno arido ed è una carta che a me un pochino riassume le energie contenute in questa dove c'è questa luce questo fiore che comunque se viene fuori è perché assorbe l'energia la vita del sole questa energia che gli viene dall'alto e poi abbiamo detto nella carta di prima questo nuovo rapporto è un qualcosa che sta nascendo partendo dalle radici e come può uscire fuori un fiorellino del genere da un terreno così arido se prima non ha comunque messo delle radici forti il nutrimento che arriva dall'alto anche in questa carta questo nutrimento che arriva dall'alto e a questo punto mi verrebbe quasi da dire che in questo personaggio questa persona che state per incontrare o che avete già incontrato tutti i blocchi tutte le difficoltà l'apparenza glaciale che ha è un qualcosa che si scioglie con un'energia che viene dall'alto spesso nei tarocchi o nelle carte nella carta degli innamorati o anche nella carta dell'amore tipo nel mazzetto delle sibille c'è questo cupido che dall'alto scaglia la sua freccia scocca scusatevi la sua freccia ecco è come se quest'uomo tornerà a mettersi in gioco nel momento in cui ci sarà anche per lui un colpo di fulmine un colpo di fulmine quindi se non l'avete incontrato io credo la cosa sarà reciproca il colpo di fulmine ci sarà tanto per voi quanto per lui e andrà bene andrà bene abbiamo la carta del successo abbiamo questo cavalcare anche gli istinti la forza e anche la rabbia anche le passioni quelle più violente che ciascuno di noi può avere qui ci siamo pacificati con la nostra forza nei tarocchi spesso la forza è il veone perché ci sono molti mazzetti metaforici che magari rappresentano in maniera diversa però c'è questo grande felino re del mondo re del suo mondo cavalchiamo e siamo noi trasportati quindi se lui è il re noi andiamo stiamo cavalcando il re siamo qualcosa di più del re quindi siamo vincitori scusate mi ho sentito uno strano rumore come se mi fosse entrare la gente in casa bene e quindi c'è questo festeggiare questa gioia questo qualcosa che come abbiamo detto arriverà all'alto questa grande soddisfazione e per voi che avete tanto sofferto da quella situazione vista in apertura di variante è un grande premio e infatti guardate quale gioia quale festeggiamento questa energia questo diventare leggeri leggeri che abbiamo detto all'inizio su questa carta che ci sono queste farfalle gialle questo guardare in alto guardare le stelle ci sarà una grande gioia in arrivo nella vostra vita la saprete accogliere e guardate com'è bello questo gesto con le braccia aperte quasi a formare una coppa ad accogliere la gioia il dono che vi arriva dall'alto bella questa variante ragazzi scusate me ne abbiamo preso due ed è una gioia che io direi arrivare dopo un periodo di grande sofferenza e ci ricolleghiamo sempre con le prime carte voltate però adesso lo andiamo a contestualizzare perché rimane sempre il dubbio che questa sofferenza possa essere in realtà non so l'esito se questa gioia non riuscite ad accoglierla potreste cadere nuovamente in sconforto afflizione nuove sempre l'eremita la solitudine questa carta ci potrebbe dire semplicemente che dovete riuscire ad aprire le finestre e le porte dietro le quali vi siede anche voi rinchiusi per far entrare le stelle per poter guardare nel cielo per poter leggere nel cielo ciò che il destino ha scritto per voi perché comunque siete molto simili con questo personaggio e sebbene voi siate molto fuocosi e questo fuoco viene proprio emanato dai vostri atteggiamenti in realtà interiormente avete un'anima fragile e spesso in passato ma ora l'abbiamo detto la lezione l'avete imparata vi siete chiusi in voi stessi vediamo un po' eh sì dobbiamo accogliere il cielo spalancare le finestre avere il coraggio di voltarci di alzare la testa l'abbiamo detto prima alzate la testa al cielo fate che quella luna non sia illusione ma creatività che tutto torni a scorrere e che il sentimento sgorghi dall'alto verso di voi e che vada veloce a raggiungere il suo obiettivo il suo mare un qualcosa che dall'alto discende acquista anche forza di velocità perché giustamente la forza di gravità fa scorrere con più impeto ciò che dall'alto cade verso il basso ecco lasciate che tutto scorra tutto nutra nutra le vostre radici siete circondati da fiori da radici questa immagine che continua a tornare sbocciate abbiate il coraggio di sbocciare e di trasformare questa luna in un qualcosa di solare di molto luminoso e guardate com'è bella questa persona e come ha la testa io riutilizzo un po' tutte le carte per trovare le simbologie e sono due mazzetti diversi cinta da stelle che sembrano poi le stesse stelle che abbiamo qui molto bello vediamo come andrà allora qui abbiamo l'incontro tra due anime collegate tra loro da tanto tanto tempo e anche se in questo momento probabilmente non riusciamo a ricordarci di noi siamo contrapposti l'uno all'altro anche agguerriti e ci sono situazioni carmiche da risolvere abbiamo una mano che tiene l'altra e sicuramente in queste difficoltà ciascun le proprie c'è anche qualcosa che ha a che fare con un karma comune quindi sicuramente questa coppia quando si incontrerà nonostante la grande passione e tutto quello che abbiamo detto la complementarietà ci saranno all'inizio degli scontri ci saranno delle difficoltà delle problematiche che devono essere comunque affrontate e verranno affrontate con la saggezza soprattutto da parte della donna non so se siete uomini o donne voi che state seguendo qui quello che io dico non è il consultante qui proprio la donna quindi se siete uomini affronterà lei se siete donne affronterete voi sempre in virtù di quella capacità di nutrire con il vostro amore di vivificare tutte le situazioni avrete la saggezza e gli strumenti del bagatto che abbiamo visto prima per far crescere quell'albero trasformare il rospo in un principe dove questo personaggio che non è un rospo però diciamo l'abbiamo detto un po' sulle sue diventerà un bellissimo pollo e si dice a pollo il più bello degli dei è risaputo riuscirete a collaborare assieme e ci saranno delle difficoltà da risolvere lui e qui ce l'ho con l'uomo imparerà da voi ma a sua volta saprà darvi delle indicazioni utili dovrete arrivare al punto in questa vita di situazioni che probabilmente vi legano da vite passate ci sono calcoli da fare situazioni da soppesare obiettivi da raggiungere ma se avrete la capacità di dialogare di parlare riuscirete comunque ad andare abbiamo il 7 comunque che ricorda il carro ad andare verso lo stesso obiettivo nel carro ci sono sempre due cavalli o le due sfinge a seconda del mazzetto il bianco e il nero che devono conciliare tra di loro gli intenti per far sì che il carro proceda in una direzione comune e non si diciamo ribalti ecco anche voi il bianco e nero quasi gli opposti siete complementari l'abbiamo detto per concretizzare dovete comunque con le vostre divergenze andare verso la stessa direzione e questo lo potete fare solo dialogando e non nascondendovi le cose gli arcani maggiori ci dicono che questa situazione sta comunque se non è già presente nella vostra vita sta per giungere sta per arrivare qualcosa sta per accadere bellissima questa carta vediamo anche l'ultima allora 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 la difficoltà di leggere le carte e qui ci facciamo una piccola parentesi è quella di non voler per forza cucire su un'immagine il significato che si trova sul libro questo lo dico solo perché per esperienza ho capito che a volte bisogna cogliere solo uno degli aspetti quindi io mi permetto con molta modestia di dirvi quello che vedo io in queste ultime tre carte poi però voi siete liberi di riguardare il video anche senza l'audio e tradurvi il significato come meglio vi pare quello che io vedo da queste ultime carte è che questo avvenimento sta per presentarsi nella vostra vita vi capovolgerà completamente o meglio capovolgerà rimetterà in moto una situazione che viene dal passato la ciclicità del cerchio della ruota una situazione che si capovolge perché comunque nel girare la ruota capovolge le sue posizioni la sua posizione però va detto anche che è uno sblocco che va verso una situazione che diventerà di pacificazione e di armonia quando gli ostacoli saranno alle spalle e con questo elemento del sole che continua a tornare quindi tra l'altro credo che si tratterà di una relazione ufficiale non di amanti o cose varie senza non la togliere agli amanti la carta della torre in questo caso tenendo conto di tutto quello che abbiamo visto fino adesso per me non è banalmente come verrebbe da dire questa storia rischia di chiudersi o finirà male no questa storia e recuperiamo anche questo sole piomberà nella vostra vita dall'alto in una maniera proprio rocambolesca sarà rocambolesco il modo in cui entrerà nella vostra vita perché sarà un colpo di fulmine cioè voi rimarrete veramente imbambolati l'uno o guardando l'altro e sarà così tra l'altro che la vostra emozione vi pone l'uno verso l'altro poi i caratteri e il diciamo il contesto carmico vi porterà prima a dover affrontare delle difficoltà quindi ragazzi per questa prima variante per chi ha già vissuto questa storia per chi c'è dentro per chi sta per entrare in questa situazione sappiate che nonostante le difficoltà quelle andranno comunque affrontate e si riuscirà a superarle insieme soprattutto con il dialogo sta per entrare nella vostra vita un partner un compagno una compagna di notevole valore bene andiamo avanti vediamo la variante verde vediamo com'è questa situazione cosa abbiamo qui è bellissima questa carta ancora non le conosco tutte perché non l'ho usato spesso questo mazzo ma è meraviglioso allora qui abbiamo questo bel diavoletto sul re di denari allora personaggio concreto pragmatico materiale e materialista qui a letto si fa fuoco il denaro se non ce l'ha lui lo avete voi comunque la materialità la concretezza la possibilità di fare cose non può mancare dico lo avete voi perché se lo avete voi questo vi si attacca sopra veramente come una pulce non vi lascia andare è il sovrano un pochino del nulla questi teschi con tutte queste corone che ci ricordano anche il fatto che i valori materiali per quanto utili sono effimeli e lasciano il tempo che trovano ma è vero anche che il teschio rappresenta le ossa e quindi quella parte rigida dentro di noi che è rigida e blocca ma anche il sostegno per il corpo altrimenti non potremo camminare ed avanzare quindi personaggio molto particolare che mi ha fatto pensare subito al romanzo il maestro Margherita magnetico curioso che incuriosisce che attrae che sa il fatto suo entra nella vita in maniera rocambolesca il problema è che se poi alla fine qualcosa di concreto non riesce a prenderlo per sé magari poi lo pure condivide prende e se ne va cioè questo è uno di quei personaggi di cui ci si può innamorare alla follia e poi piangere 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 per mesi e anni se se ne va via perché come arriva in maniera rocambolesca prende e se ne va quindi fate attenzione cosa abbiamo? giustizia allora e quindi che dobbiamo dire? anche qui non è un incontro casuale è un incontro piombato su di voi dal cielo dobbiamo fare il punto su vecchie situazioni qui abbiamo un re che è in gabbia torna anche l'immagine della corona della regalità un rapporto che fa fuoco e fiamme abbiamo se guardate bene questa manina ve lo faccio vedere il dito staccato mozzo all'anulare potrebbe trattarsi di una situazione di un matrimonio di un rapporto finito tradito anche se si trattava magari di un rapporto diciamo non ufficiale però tradito perché l'altra persona ha creduto molto in questa storia o un rapporto che viene dalle vite passate e qui dobbiamo fare un attimo il punto sulla situazione comunque è un incontro veramente forte sì dovrei dire solo che è forte perché è la parola giusta d'impatto ecco questa è la parola migliore d'impatto potreste addirittura esservi incontrati camminando uno sbattuto sull'altro vi siete dati una gomitata eh sì questo due di coppe ci dice che l'incontro questa coppia questa dinamica viene da molto 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 lontano i semi erano stati già radicati radicati scusate i germi erano stati già seminati nelle vite passate stanno adesso dando i loro frutti due persone contrapposte una molto passionale l'altra un pochino più pura dove per passionale non intendiamo impuro però molto più materiale l'altra molto più spirituale cosa c'è alla base alla base c'è qualcosa che è morto ma che non è morto del tutto cioè stiamo resumando in questa incarnazione qualcosa che a sua volta continua ad avere radici non le abbiamo solo noi nella vostra individualità nella nostra individualità ma anche quello che avevamo apparentemente sepolto delle vite passate in realtà a radici avete presente quelle piantine che seccano poi magari tagliate tutto pensate di dover gettare la terra poi dopo un po' non si sa per quale strano motivo la radice non era morta la stagione dopo rispunta il fiore perché perché non era morto morte apparente e la morte che cos'è tra una vita e un'altra forse un cortocircuito della memoria dell'anima che dimentica di aver lasciato un corpo come nel bruco e di essere entrata in un altro corpo poi far falla senza mai aver avuto interruzione nel frattempo chiamiamolo così un evidente cortocircuito forse è svanita la memoria ma non è svanita la testa è un qualcosa che è rimasto nei nostri pensieri dentro di noi quindi qui ragazzi ragazze l'incontro è ogni incontro è karmico è destinato però ci sono situazioni in cui delle questioni karmiche sono giunte diciamo al nodo rispetto ad altre in cui sono in cammino ancora qui probabilmente dobbiamo giungere a una chiusura o a una svolta un verdetto circa una situazione passata cosa abbiamo qua eh beh se non è la giustizia la bilancia direi io allora ribadisco e confermo tutto personaggio che sia uomo donna affascinante e se è un uomo è comunque un uomo che ci tiene tanto all'aspetto fisico e al look ci tiene tanto gli piacciono le cose belle si circonda di belle persone soppesa scusatemi abbiamo distrutto tutto soppesa le situazioni soppesa le persone con cui si frequenta non è uno che si fa guardare in tasca cioè se c'è da mettere quel denaro lo mette però quando ne ha bisogno lo chiede c'è una di quelle persone che se non ha denaro deve comunque spendere da qualche parte lo deve prendere se non è un familiare un amico poi è il partner e comunque dobbiamo giungere in questa vita a chiarire qualcosa e questa persona sicuramente vi ha affascinato veramente tanto siete rimaste molto colpite probabilmente siete anche titubanti ecco il fascino che non vi convince che vi prende terribilmente ma vi mette allerta e Saturno il saggio tra i saggi viene a dirci che siamo nell'inverno di questa situazione dove tutto sembrava appunto sotterrato radicato congelato invece no l'inverno è semplicemente una morte apparente perché a primavera tutti i semi ricoperti anche dalla neve li prenderanno a vivere a germogliare e se voi avete nascosto un semino di quercia sotto la neve nascerà una ghianda nascerà la quercia è per dire se voi avete nascosto nel passato delle vostre vite una causa questa causa che non è svanita adesso presenta dei effetti e quegli effetti non li potete nascondere perché poi rispetto al semi la pianta è molto più grande e non solo ma poi produce ulteriori semi che producono ulteriori piante simili cioè si crea una catena continua di cause e effetti che vi dicono ti ricordi che forse dobbiamo risolvere questa situazione dobbiamo fare il punto se stiamo a far vecchi lo vogliamo fare prima che finiscano le possibilità vabbè questa è una battuta ovviamente le possibilità non finiscono nelle vite c'è sempre tempo perché le tempistiche dell'anima sono eterne quelle del corpo sono a scadenza il corpo pensa che quello che non riesce a fare nella sua incarnazione non lo vorrà mai più fare va in disperazione l'anima invece è bella che tranquilla si crea questa polarità e noi soffriamo di questo attrito dentro di noi di queste tempistiche differenti allora vediamo vediamo in questo momento della vostra vita vi state ricordando e avete cominciato a nutrire il dubbio che non sia un caso che abbiate incontrato questa persona qui abbiamo tre donne che stanno facendo l'aperitivo stanno tra di loro apparentemente non hanno bisogno di nessuno però una mostra l'altra delle foto in bianco e nero foto del passato vuoi dire ma te lo ricordi e l'altra vuoi dire ma no ma veramente ma lui ti piace lui ma non è possibile ma si guarda questo lo conoscevo cioè è per dire che dentro di voi si sta risvegliando da quella testa teschio che abbiamo detto che ha perso la memoria sta tornando la memoria ed è un qualcosa che non riuscite a tradurvi in vere e proprie parole ma si diciamo ripresenta a voi come un sentimento pulsante come il battito del vostro cuore cioè un attimo in cui batte e poi quell'attimo di fermo di stop tra una sistola una di astoli quindi una volta siete certi poi c'è quel vuoto che vi fa dimenticare si è lui no non è lui cosa devo fare cosa sento intanto il cuore batte batte e davanti a lui avete il batticuore c'è un'attrazione inspiegabile perché apparentemente sembra un sentimento vuoto invece questa coppa vi proprio attira come vi attirerebbe un mulinello nell'acqua vi attira vi attira e vi risucchia vi risucchia a volte ha un sentimento che voi vorreste vincere perché dite non puoi monopolizzarmi il pensiero eppure vorrei stare affianco a te vorrei andare nella tua direzione non so niente di te ma vorrei sapere tutto di te mi sembra di conoscerti da una vita ti desidero cioè si arriva a questo fiuto che potrei scottarmi e farmi del male come nella prima variante però no voglio andare io ti seguo io sento di aver già percorso con te nel passato una strada simile una strada parallela che cosa vorrà essere accaduto portiamo con noi beh una situazione che va tramontando per fortuna fatta di sofferenze e se tutto andrà bene in questa vita si giungerà all'accordo si giungerà finalmente all'accordo e si recupererà però dobbiamo vedere se è una storia che continua perché quello che a me viene dall'inizio è che comunque sarà una storia importante questo arrivo improvviso però è il prossimo partner però non è detto che sia il partner di sempre e per sempre di sempre probabilmente di tante vite lo è però c'è ancora tutta questa questione fatta di blocchi perché richiamiamo blocchi perché essendo delle problematiche delle vite passate di cui abbiamo perso la memoria razionale ma conserviamo solo un imprinting nell'emotività nella reazione a pelle che abbiamo nel magnetismo che si crea anche quando c'è vicinanza e noi non vediamo non possiamo vedere non possiamo agire per risolverla possiamo solo attendere che si giunga ad un accordo interiormente tra noi stessi con noi stessi e tra noi con lui le carte le carte ci consigliano infatti di non soffermarci troppo su ciò che appare ma guardare dentro di noi e lasciare scorrere riattivare quelle fonti che ci restituiscono un pochino la certezza dell'eterno ritorno in che senso noi sappiamo di essere collegati anche se non ci ricordiamo di ciò il ciclo dell'acqua com'è? l'acqua scorre evapora diventa pioggia cade sulle montagne ghiaccia scorre evapora ecco dobbiamo lasciare scorrere la trasmutazione delle nostre vite tutto quello che noi siamo diventati un corpo un animo un animo un corpo e tornare nel frattempo tutto quello che abbiamo portato o registrato nella memoria del nostro DNA animico lì ci sono tutti i fantasmi ma ci sono anche tutte le gioie che abbiamo vissuto dobbiamo imparare a chiudere gli occhi e a far tacere le voci che fanno sorgere noi dubbi e che istillano paure e nutrono insicurezze per cercare nuovamente il centro e cercare di ottenere e di raggiungere un focus su questa situazione allora questa carta che ci riporta questo simbolo tibetano bellissimo la croce non ricordo il nome ma io ho un ciondolo così meraviglioso ci parla della necessità di far dialogare i quattro elementi e quindi in realtà di trovare un'armonia nel tutto anche in questa situazione verremo scaraventati nella confusione perché si risveglieranno contemporaneamente energie che ci attirano energie che ci respingono desideri che ci portano ad avvicinarci e paure inspiegabili però reali che ci dicono e ci suggeriscono allontanati e soffrirai lui ripeto un personaggio molto 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 magnetico e molto enigmatico ma non sarà lui a fare il passo indietro è a voi che verranno i dubbi sarete voi sottoposti a questa situazione di stress e se non vi centrate dentro di voi cercando di trovare appunto il vostro centro di gravità permanente rischiate di affidarvi alle scelte altrui è un attimo che un'altra persona vi fa perdere il terreno sotto i piedi e vi fa cadere ecco cercate di calmarvi questa carta l'invito a non raggiungere questa condizione state radicati a terra seduti e calmi non dimenatevi non diventate dispersivi l'intensità ci parla del dover focalizzare una direzione questa direzione ci manda a sinistra ci rimanda al passato e di andare con intensità e diretti verso quei ricordi tanti di voi avranno fatto sedute di ipnosi regressiva tanti sono curiosi di scoprire il proprio karma le vite passate ecco diciamo che questo incontro vi porterà a sviluppare una curiosità ancora più vivida circa queste cose perché proprio il fatto di non comprendere bene come mai pur non avendo spiegazioni razionali provate delle sensazioni così forti ecco tutto ciò vi porterà ad indagare voi vorrete capire cosa c'è tra voi e cosa vi lega il compromesso è fondamentale lo abbiamo già detto è un compromesso tra i desideri dell'anima e le paure anche che ci sono bisogna saper andarsi al fianco la paura deve andare al fianco con la nostra curiosità quindi questa persona entrerà nella nostra vita e come prima cosa ci manderà totalmente in crisi ci metterà in una condizione di stare in milico perché noi saremo contemporaneamente attratti e respinti attratti e respinti incuriositi e impauriti vediamo gli arcani maggiori eccoli cosa raccontano e che tipo di evoluzione prevedono per questa storia allora tempistiche lunghe è un dialogo molto intimo tra due persone simili dove però questi sentimenti la temperanza è una carta per detto di tempistiche lunghe in avanti e anche indietro questi sentimenti nello scorrere da una fuori all'altra quando ne riempiono una ne svuotano l'altra e viceversa voi vi siete dati e presi reciprocamente tante e tante volte nelle vite passate e probabilmente anche in questa vita vi state incontrando nuovamente perché qualcuno deve dare qualcosa a qualcun altro e viceversa fino a che non si raggiungerà il compromesso il condividere che è poi la partecipazione un po' a testa se noi contemporaneamente continuiamo a dare a ricevere e non smettiamo mai nessuno resta senza però non si può trattenere vi confermo il fatto che abbiamo un qualcosa di destinato ma proprio come punto d'arrivo quel qualcosa di sepolto detto all'inizio che viene ridestato il seme che finalmente riceve la luce e l'acqua muore a se stesso germina dalla terra e viene fuori dalla terra e la stessa cosa per i sentimenti che provate incontrando questa persona dentro di voi a livello di pancia c'è qualcosa che sentite fremere questo qualcosa se è nutrito con attenzione metterà non solo radici nel basso ma germoglierà diventerà evidente molto probabilmente riuscirete a chiarire cosa c'è tra di voi abbiamo una donna saggia abbiamo un personaggio che troverà la chiave della sua porta e avrà la conoscenza nonché oltre che la conoscenza la fermezza di comprendere senza più pretendere cosa vuol dire quello che io sento molto forte in questa variante è che non è detto che questa storia avrà un seguito e sembra contraddittorio questa storia avrà un presente forte quel presente vi costringerà un percorso interiore evidentemente se il seguito non ci sarà sarà perché si presenteranno carmicamente situazioni per ciascuno di voi voglio recuperare la carta se la ritrovo vabbè situazioni che vi porteranno a dover affrontare questioni comuni e questioni separate però sappiate una cosa anche se ci sarà sofferenza perché è probabile che nel momento in cui questa situazione comunque avrà una rottura ci sarà una sofferenza pari e contraria nella sensazione alla gioia provata nell'incontro questa sofferenza verrà comunque metabolizzata e ne verrete fuori molto più forti di prima e anzi vi posso dire anche che dopo un po' sarete ben felici di aver attraversato questa situazione perché nel chiarificare quello che c'è con questa persona di cui adesso non capite diciamo le motivazioni dei sentimenti che provate è come se riuscirete a tirar fuori altri malesseri che non hanno niente a che vedere con la relazione di coppia ma con altre situazioni nella vostra vita io penso che si andranno a sbloccare e sono curiosa se accarrà perché è una variante particolare situazioni anche legate al lavoro e io penso che qualcuno di voi non ha una situazione pacifica in famiglia ci sarà il recupero dei rapporti in famiglia tanto con la famiglia di provenienza quanto magari con un matrimonio che sembra essere andato in crisi variante rocambolesca comunque ragazzi beh poi per chi vuole approfondire perché ovvio si tratta di consulti generali andiamo a lavorare con i nomi con i nomi dei dati di numerologia e cose varie io vi ringrazio aspetto i vostri commenti soprattutto quando ci sono varianti così strane per me strane perché magari non parlano della mia vita però leggendo i vostri riscontri molte volte noto che quelle varianti sono proprio dirette ad alcuni di voi che si rispecchiano totalmente io vi ringrazio e ci sentiamo al prossimo interattivo